In questa lezione vedremo uno suo risort molto articolato, a vari ritornelli e riprese da capo a fine al termine del pezzo. Ha dei bassi a cui si sovrappone una melodia sulle corde alte, di conseguenza è uno studio fondamentalmente a due musci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questa lezione abbiamo terminato il capitolo dedicato agli studi tratti da repertorio didattico tradizionale. A questo capitolo seguirà poi quello con degli studi di mia composizione. Grazie per avermi seguito fin qui ed iscrivetevi al mio canale YouTube per non perdere le prossime lezioni.